Buongiorno amici, ciao Fiorava Alberino, Mario e te ne abbiamo pure Nicola, da Montenegro di Bistro, però senza essere la parte materna. Voi voglio domandare un'acqua, ma muovi che ci facciate? Che ci facciate? Stiamo aspettando il pranzo di mezzogiorno, viste e considerate che non è che ti offrano un grosso sbagamento di cacciare anche la gente, non c'è nessuno. Comunque io quello che volevo dire è questo, perché vi ho fatto stare a Montenegro? A Santa Salva si dice che ci facciate a ECC, che ci fate in questo luogo, vero? Stiamo aspettando che sono mezz'io. Io sgrana, la campagna di mezzogiorno. Io però volevo direci un'altra cosa. Noi diciamo a Santa Salva, a ECC e a ECC. Ma parliamo prima di ECC e a ECC. Dice che sarebbe qui, a ECC invece significa di lì, di lì, di lì, di lì, di lì. Quindi per misurare la distanza noi diciamo da ECC a ECC, da ECC a ECC. Che varia da un metro a un chilometro. Bravo. Varia da un metro a un chilometro. E' variabile la misura? La misura è variabile. Ero ora più avanti e ha detto un gasto e un gallo. Un gasto e un gallo. Un gasto e un gallo? Dice. Un gallo o un gasto? Eh, non l'ho fatto molto. Stavate più avanti. Un gasto e un gallo invece, che significa? Di qua e di là. Bravo signor Mariani, se ne va. Di qua e di là. Di qua e di là. Un gasto e un gallo. Ma un'altra cosa anche a voi. Un'altra cosa anche a voi lo voglio domandare. E' qua per qua e qua per là. Eh, quello ancora più, quello di una volta. Un cappellò. Un cappellò. E' si che diceva più. Dicisette, dici dott e diciannue. Bravo che sei legato. Dicisette. 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 Però arriviamo a Capangallà e Capangallà. Capangallà, cioè, oh mi sono diviso un bici. Dicisette. Dicisette, Dicisette. 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 Allora, Capangallà che significa? Dicisette, sul posto. Capangallà. Dicisette. Di là, un'altra parte. Dicisette. 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 non sta presente con noi quando uno sta muore bonti non è che sta alla fine si è usato i 60 soldi sta più da lì che da qua ah sempre più da lì che da qua qua si canta che uno si sta muore bonti diciamo pure sta male 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 sta più da lì che da qua però mi ha detto una volta a me il bastione Valentino il povero bastione che era andato dice che quando io mi stavo mi ha detto il bastione Valentino mi ha detto il bastione Valentino mi ha detto per esempio il bastione di quello che sta a tirare d'auro a tirare d'auro a mario a tirare d'auro a tirare d'auro ha detto il bastione prima o poi si stocca sopra la capace buonanotte ciao ci vediamo grazie mi ha detto 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 mi ha fatto bene la morte la morte le morte sono sempre dolorose quindi le morte però bastione aveva coscienza che prima o poi aveva successo e quindi ha fatto la morte ok ciao amici grazie 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 grazie